Montebello Vicentino, una discarica a cielo aperto. Le fiamme gialle di Vicenza sequestrano un'area privata di 350 metri quadrati in cui giacciono tonnellate di rifiuti speciali, anche pericolosi, con rischio di sversamenti nocivi per l'ambiente. Secondo gli accertamenti della Guardia di Finanza, i responsabili del reato di attività di gestione di rifiuti non autorizzata apparterebbero alla stessa famiglia, vale a dire, il rappresentante legale della società proprietaria dell'area di vita a discarica, costituita da un capannone industriale con area scoperta, e la proprietaria di un'officina che avrebbe materialmente prodotto i rifiuti speciali. Nell'area sono state trovate 53 tonnellate di pneumatici fuori uso, parabrezza di auto frantumati, oli esausti, pastiglie, freni, cerchioni in ferro di autoveicoli, batterie esauste per auto, materiale ferroso vario, solventi, il tutto a diretto contatto col terreno.